La linea Amici Speciali COP è la nuova linea dedicata al mondo degli animali da compagnia. Al momento abbiamo un'offerta dedicata ai cani e gatti, ma ha l'obiettivo di lavorare anche su altri animali da compagnia, ovviamente piccoli animali. Ad oggi l'offerta si compone di due segmenti, un'offerta basic in modo tale da soddisfare tutte le esigenze dei consumatori e fino ad arrivare a quella più specifica. I due segmenti che caratterizzano questa gamma, abbiamo detto una parte basic che garantisce convenienza senza rinunciare comunque agli aspetti qualitativi, valori etici e sicurezza di COP e l'altra invece la fascia che noi chiamiamo premium a maggiore contenuto di specializzazione, che è un'offerta che dà prodotti in grado di soddisfare le diverse esigenze dell'animale a partire dall'età, dalla dimensione dell'animale, stile di vita, fino ad arrivare a particolari bisogni nutritivi dell'animale. Oggi la gamma è composta da 85 prodotti, ma come dicevo prima abbiamo l'ipotesi di, anzi in programma, l'ipotesi di stendere la gamma a nuovi prodotti. Oggi la gamma è la gamma a nuovi prodotti, ma come dicevo prima,